Salve a tutti fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi 12 settembre 2019 Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, gloria a Dio Padre Onipotente e Ave Maria Bene fratelli e sorelle, come avete visto dalla locandina e dalla miniatura di oggi abbiamo scritto UFO uguale Satana Perché? Per spiegarlo bisogna leggere il messaggio fratelli e sorelle per capire perché questa cosa Già vi anticipo che già per esempio in molti esorcismi, per esempio Padre Amort l'ha sempre detto che gli extraterrestri non esistono Ma se esistono sono opera del demonio, quindi è tutta opera diciamo del maligno questa cosa cari fratelli e sorelle Non pensate che sia opera di Dio tutto ciò, c'è molta gente che crede a queste cose e c'è molta gente che cade nell'inganno di queste cose Quindi per dire la verità fratelli e sorelle è giusto dire le cose come stanno ed è meglio una vera verità piuttosto che una falsa bugia fratelli e sorelle Quindi ecco, questo è quello che dobbiamo andare a rivedere cari fratelli e cari sorelle E adesso andremo ovviamente a leggere il messaggio in questione Il riferimento sempre a colle del buon pastore Un attimo che Se riusciamo Ecco qua Eccoci qua Ecco qua, perfetto Non ci mettevamo bene con la pagina Allora E il messaggio del 16 giugno 2019 E dice questo Il peccato e la malvagità si sono radicati nel cuore di questa umanità perversa E questo fa sì che gli spiriti maligni si stanno impadronendo di molte anime I demoni non riposano cercando la caduta dell'umanità I demoni dell'impurità sono alcuni dei quali stanno facendo perdere più anime La violazione del sesto comandamento della legge di Dio sta portando la gioventù e gli uomini a perdersi eternamente Milioni di anime convivono oggi con demoni della carne Questo ha fatto sì che lo spirito di Dio e l'angelo custode Si allontanino da loro Gli spiriti maligni stanno controllando, guidando e dirigendo la vita di milioni di esseri umani Per il controllo che stanno esercitando questi spiriti maligni su tante anime È per questo che oggi in questo mondo si sta spargendo tanto sangue Ricordatevi che il maligno è odio, distruzione e morte Gli interessa solamente rubarvi la vostra anima per benfarsi di Dio e la sua creazione Fratelli, tutti gli esseri che chiamate extraterrestri o alieni sono demoni Non credete nelle bugie degli extraterrestri Né nelle chiamate degli esseri illuminati o ascesi Perché sono tutti demoni Sono entità venute dall'inframondo Molti sono mascherati da angeli da luce Inviando messaggi che allontana da Dio una grande maggioranza dell'umanità Li stanno accettando e li seguono come se fossero divini State molto attenti con questo, fratelli Perché la cosiddetta angeologia è della nuova era che serve all'avversario Ogni messaggio che viene dall'Altissimo deve essere protetto dalla parola di Dio Ricordatevi che già tutto fu scritto Le profezie dei veri strumenti del cielo di questi ultimi tempi vi stanno ricordando Ciò che già sta scritto nella santa parola Ogni messaggio del cielo deve richiamare al pentimento e alla conversione dell'umanità E la cosa è più importante Deve preparare spiritualmente il popolo di Dio per gli avvenimenti che stanno per venire Ogni messaggio dal cielo deve annunciarvi il castigo che verrà all'umanità Se questo non si converte e ritorna a Dio Fate attenzione, fratelli, con il lasciarvi sedurre da messaggi Che non parlano di misericordia e giustizia divina Ma vi mostrano una falsa salvezza Dove non vi sono pentimento né conversione Ve lo ripeto di nuovo Messaggi di essere di luce, angelogia, messaggi di essere maestri illuminati Non vengono da parte di Dio Affinché non cadiate in quelle trappole Tutto ciò fa parte della nuova era Che è il travestimento con cui si sta camuffando l'avversario in questi ultimi tempi Vi ricordo, fratelli Per arrivare al cielo dovete prima portare la vostra croce E camminare attraverso il calvario della purificazione Tutti i figli di Dio devono morire al peccato ed essere purificati Affinché possano entrare domani nel regno di mio padre Quindi vedete un messaggio chiaro di quello che ha detto il Signore Gesù Quindi io non vi aggiungo nient'altro perché penso che sia più chiaro di questo Penso che c'è poco altro da aggiungere, cari fratelli e care sorelle Quindi quello che conta, come avete sentito, è Dio, è Gesù È la sua volontà, fratelli e sorelle Il resto, ve l'ho detto, sono chiacchiere Non servono a nulla Anzi, servono ad allontanarsi sempre di tutto a Dio Dio vi benedica Sia rodato nostro Signore Gesù Cristo Sia fatta la sua santa e divina volontà Lode e gloria al nostro Signore Gesù Cristo Si compia quello che il Signore voglia Ave Maria Se potete, se volete Seguideci nel nostro canale dedicato al Signore Gesù Se volete, se potete Ovviamente Iscrivetevi al nostro piccolo canale dedicato al Signore Proprio dedicato solo al nostro Signore Gesù E che si compia quello che il Signore ha detto, fratelli e sorelle Poi, se volete, potete diffondere questi video Come diffondere la parola di Dio E si compia quello che il Signore vuole Bene, fratelli e sorelle Dio vi benedica Sia rodato Gesù Cristo Sia fatta la sua santa volontà Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti